A Montesilvano si continua a lavorare notte dopo notte, il caso di dire Assessore Cozzi, anche nell'ultima notte ci sono stati degli interventi della Polizia Locale. Non solo si prosegue, ma si vedono anche già i risultati, se vogliamo, perché nella notte scorsa non abbiamo fatto nessuna contravenzione. Quindi volevamo con questa campagna arrivare a tutta la popolazione, ma non solo perché poi quelli che abbiamo pizzicato, passatemi il termine, non sono di Montesilvano, sono persone che vengono dall'Interland. Con questa campagna volevamo fare rumore, ci siamo riusciti perché se ne parla a livello nazionale. Se avessimo detto semplicemente che era vietato contrattare le prestazioni, nessuno avrebbe ripreso questa notizia. Invece siamo arrivati in tutta Italia. Controlli che proseguiranno anche, soprattutto con l'arrivo, l'avvicinarsi anche della stagione estiva? Controlli che saranno intensificati, non a caso abbiamo creato questo nucleo, ma controlli che venivano fatti anche prima. Quindi la nostra attenzione è stata sempre massima. Adesso la stiamo intensificando.